Dice mi Miranda, ma l'è il tipo importante, ti sciordi e vesti, e ti resti più arte. Che male, dite che Miranda è simpatico, non è qualcosa che ti fa. Grazie, grazie, ma oh che male, oh, mi hanno un caldo di farlo come lui, in cui Miranda. Miranda, che quando mi rassa mia moglie, è per lui che mi rama, anzi, per lui che mi rama, che capisci? Sì, mi ha creato un tipo, ma che si chiama, ma questo è un bel drag, tu l'hai spiegato mia, beh, ti la metto, e ha finito a dire, avevo solo un padre, un po', beh, beh, sì, parlavo un po', beh, beh, sì, parlavo un po', parlavo un po', va bene, cosa chiede, ma, beh, beh, guardavo l'ora, guardavo l'ora, guardavo l'ora, un'ora che l'era aiutata, guardavo l'ora, guardavo l'ora, un'ora che capisci?